Un momento per il Paese molto particolare perché imprese, famiglie, lavoratori ma anche persone che non hanno lavoro, pensionati, hanno bisogno di risposte. Noi come Paese abbiamo bisogno in questo momento di stabilità perché dobbiamo portare a casa dei provvedimenti che fermano l'inflazione, che permettono alle famiglie di non perdere il potere d'acquisto, che consentano alle imprese di calmirare i costi dell'energia. Invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo, nell'ennesima crisi nella quale c'è una forza politica che sta generando instabilità, il Movimento 5 Stelle, e che sta sostanzialmente mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il Paese. Io lo voglio dire molto chiaramente, far cadere il governo in questo momento significa mancare la battaglia del tetto massimo al prezzo del gas che stiamo portando avanti in Europa. Significa sostanzialmente mandare in esercizio provvisorio il Paese perché non riusciremo a fare la legge di bilancio. Significa bloccare il Paese, perdere i soldi del PNRR e impedirci di fare i decreti leggi che servono per quei provvedimenti che devono aiutare famiglie e imprese. Non si può pensare di affrontare l'argomento giovedì in Senato come se fosse una cosa da nulla. Giovedì c'è una verifica di maggioranza e deve essere una verifica di maggioranza perché noi dobbiamo metterci a lavorare anche sui tavoli internazionali. Abbiamo bisogno della massima compattezza della maggioranza per portare a casa i successi che servono per fronteggiare gli effetti economici di questa crisi. Io sono qui per incontrare delle imprese. Le imprese italiane hanno problemi con le materie prime, con l'energia, col costo del lavoro e con l'inflazione. Rispetto a questo il teatrino della politica non serve veramente a nulla. Sta solo allontanando i cittadini dalle istituzioni. E io sono contento che all'interno del Movimento 5 Stelle ci siano tanti parlamentari che non condividono la linea di far cadere il governo e mandare il Paese in esercizio provvisorio. Perché non si può assolutamente agire dai responsabili in un momento storico come questo. Noi come governo siamo impegnati al massimo sui tre fronti che sono i salari, che sono la precarietà e il cuneo fiscale. E anche gli incontri che stiamo avendo in questi giorni e che ci sono stati oggi con i sindacati sono molto importanti perché partono tre tavoli di lavoro su salario minimo, precarietà e cuneo fiscale che devono servire ad alleggerire gli effetti di questa crisi economica inedita sui cittadini italiani. Però dobbiamo lavorare seriamente e quindi non ci può essere una forza politica che dice forse giovedì mi astengo. Ci dicano se sono dentro o fuori. Grazie. Io credo che le imprese abruzzesi, se gli imprenditori in Italia sono degli eroi, gli imprenditori di regioni come l'Abruzzo sono dei supereroi che cercano di affrontare tanti problemi. Io sono qui per dare qualche risposta. Il costo dell'energia sta facendo aumentare l'inflazione ma sta anche producendo un problema enorme per le aziende rispetto a delle bollette energetiche che sono del più 300% nel giro di qualche mese. E su questo voglio spiegare nei dettagli la battaglia sul tetto massimo al prezzo del gas che con il Presidente del Consiglio Draghi stiamo portando avanti in Europa perché se riusciamo ad ottenere quello, in un solo colpo calmeriamo i costi dell'energia e fermiamo anche l'inflazione. Grazie. Sul grano stiamo avendo dei primi timidi segnali positivi ma io credo che dobbiamo essere molto molto attenti nel vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Ricordiamoci che abbiamo decine di milioni di tonnellate di grano bloccate nei porti ucraine a causa del blocco navale militare russo. Per riuscire ad ottenere questo obiettivo di sbloccare quel grano serve una mediazione e in queste ore abbiamo letto che c'è la disponibilità da parte di Mosche e di Kiev di incontrarsi con la Turchia e con l'ONU per trovare una soluzione sui corridoi sicuri. Grazie. Grazie.